Marekamsic, Kulam, va a stringere il campo, con la stessa roba, 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 con la stessa roba. Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Salvataggio decisivo da Ponditorio, e Ritare, dentro a supportare, pallone! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Calcio d'angolo di Callecon, tagliata a Ritare, dentro ancora! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti